Modena ovviamente, Irvingapet, forte sul Rizzo, che cosa ha fatto? Walsh per Finger, l'attacco di Finger attorno a Irvingapet che è praticamente di petto a recuperare quella palla, la palla è buona, l'ha fatto una grande cosa Bruno con Walsh l'attacco da parte di Zavorno che il pallone dentro, ma che cosa aveva recuperato? Incredibile, incredibile azione da parte di Irvingapet Palla passa all'esterno, valutata da Sobrero e quindi giocabile o all'interno Tutto legale